Il calendario 2017-2018 dell'Avellino non dà spazio alla fantasia, visto che l'esordio del 26 agosto del Biancoverdi sarà nuovamente contro il Brescia. La formazione di Novellino però affronterà subito due neopromosse alla seconda e terza giornata contro Cremonese e Foggia. Dalla quarta giornata potrebbe cominciare un ciclo terribile per l'Avellino a partire dalla trasferta di Cesena, la gara interna contro l'ambizioso Venezia e poi la trasferta di Novara. L'Empoli alla settima, poi Bari e Salernitana, due rivali storiche, una dietro l'altra come lo scorso anno, questa volta però all'ottava e alla nona giornata. Dopo il derby l'insidiosissima trasferta di Pescara, seguita dalla partita sulla carta più agevole interna contro la Provercelli. Dodicesima e tredicesima rappresentano per l'Avellino due trasferte tremende con i Biancoverdi che faranno visita prima a Parma e poi a Perugia. Successivamente sul cammino dell'Avellino la Virtus Emtella, la Partenio Lombardi e poi la trasferta in Ciociaria col Frosinone. Due impegni casalinghi consecutivi contro Palermo e Carpi, concludendo il girone di andata con le ultime quattro sfide a Cittadella, Ascoli, Spezie emtrasferta alla vigilia di Natale e Ternana a domicilio il 31 dicembre, con la speranza di chiudere il giro di Boa con i botti di Capodanno. Grazie a tutti.